Parcheggio a due piani con ascensore Arriva un'auto azzurda Sale sull'ascensore E va al primo piano E si parcheggia di fianco all'autorosa Adesso l'autorosa parte Scende e si dirige verso l'uscita Arriva un'auto arancione E va a darsi una pulita all'autolavaggio Adesso si che è bella pulita Adesso arriva un'autorossa Sale sull'ascensore E va al secondo piano E si parcheggia di fianco all'auto grigia Dall'altra parte arriva un'auto gialla E si parcheggia di fronte alla stazione di servizio Uno Trette Otto Nove Dieci euro E si Di 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.